secondo le statistiche di youtube solo l'un per cento di chi guarda i miei video iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie spingere ragazza spingere dovrei insonorizzare la casa ma non posso ragazza minchia che dolore di stomaco porca vacca oggi ragazzi c'è un annuncio fondamentale di cui io partecipi non lo devi dire ragazzi lo dico quando avanti a tutti me fra un cazzo di contratti no come se tu avessi detto lei che è un appunto stessa cosa cioè quindi per favore dati un contegno e cerchiamo di un po di rispetto già prima stai facendo andare via grazie scherzo sei bellissima infatti ci ha pensato per favore ma cos'è che non ti va bene gli do il culo io porca pittana cosa ti dico adesso ci penso io se vuoi max felicità sprego max naomi da crescenza ha balzato bello è rasa palle ma max ma non mi vuoi portare un rasa palle così ma è la limited edition ma ci sei dietro tu che ho fatto solo cose buone solo l'unica cosa è buono buono ed entrare in guerra tutto il resto è buono non è che ha fatto solo cose buone tranne una qua di entrare in guerra è una grande cosa cattiva io sono fascista assolutamente penso che gli antifascisti siano tali principalmente perché non conoscono neanche il fascismo e peraltro io non penso non odio i comunisti perché penso che il comunismo non si oppone al fascismo io mi preoccupo questo ubriaco come cazzo è? pavero io faccio gli anni a mezzanotte nevio cosa fai? gli anni devi cacciare la fresca bello eh guarda ne ho cacciato tanta di fresca hai già portato una bottiglia eh? la bottiglia hai già portato certo se vinci a blackjack te la regalo per me è come rubare in chiesa è regolare non ti mica se perdi sempre ma che cazzo me ne frega stasera vinco perché non gioco un cazzo è regolare perfetto va bene allora diamo il benvenuto allora ragazzi prego come sta andando la festa di compleanno come sta andando la festa di compleanno come sta andando la festa di compleanno no se non ci credo mai zio santo e guarda qua domani io vai a Napoli che cazzo fai bro Gilbert ma perchè cazzo ero te che cazzo fai io mi metti co che cazzo combino bro oh zio santo oh Gilbert ti ha fatto cadere la palla sopra i cosi figa dai cazzo ma guarda domani vai a Napoli come faccio bro io farei una partita a Napoli domani zio santo ma porca fai io zio santo non giocare con i palloni dentro le cose gesù cristo gesù cristo no non puoi farlo eh si com'è non puo non puo farlo come cazzo fai ma perchè perchè devi usare il pallone perchè devi usare hai rotto le coperie che non devi ancora allenarti di più Giment hai capito la pallone ciao dio santo dio santo eh quel rato non ci ha invitato anche proprio perchè fai sempre casino tu lo sa tuo nome non era su una lista cazzo anche informarsi sulle cose le cose sociali del di gay eh dell'oggi eh ciao simone a dopo ciao ciao lo volete eh cos'è che è un libro di gay eh no lascia stare no no è meglio è meglio cambiamo argomento va mio padre dov'è che eravamo rimasti green no allora eravamo rimasti vabbè la ah si deve arrivare da solo grazie Linda scusate no 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 faccio quello che posso ma qui siamo diciamo in una situazione di professioni da scarsa facciamo entrare non c'è il flash la prossima la prossima magari non sta al telefono hai ragione scusami però allora ti dico un secondo caro ti dico ti aspettare un secondo secondo me che adesso magari ci siamo innervositi si ok ti direi si usateci la mano hai ragione anche per il bene del format assolutamente ehi ciao come va bene fra sono cazzuto come papà e buono come mamma wow sono qui per aiutarti se mi mostri il rispetto e le realtà saremo amici per l'eternità bene bene ma se mi prendi in giro eh ti ritroverò uno spillo nel culo ouch e io ti dirò vaffanculo no no se mi rispetti ti rispetterò se mi affronti non avrò ma se mi tendi la mano il mio cuore avrà in mano ti sicuro ti tradirò non sono d'accordo su come gira il mondo no no prima ti usano poi va bene anche se cadi in un pozzo vero bro generazione senza ideali si gioca a darmi pari fermiamoci un secondo ascoltiamo questo mondo non sei un snitch 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 hai fatto la cazzata ma inutile che gridi dai 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 ma aspetta non ho fatto copia ma sono enormi sono veramente delle teste grandissime dai dai ma di me 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 no no è normale pensavo peggio vabbè un approccio comunque no dai non è una propaganda di messaggi eh però no no erano quelli è un approccio mi serve un attimo del tempo alzati in piedi un secondo quello no perché a me questo è uno stronzo perché dice Eh albino io vorrei che facessi cose più piti e poi mette le motto ma bene non so ho un anno e non faccio più niente e oggi tu lo sai David che dopo c'è la pool streaming che la fai tu con novi decrescenzo e vedi a senuti ma non mi... cos'è? si sta inquadrando ma cosa sta succedendo? no ho detto volevo bussare la porta ah comunque frigo barra si vabbè però facci un po' di forza vabbè Kezza mi ha battuto ma di brutto ma non sta mettendo forza vabbè ma perchè non è capace aspetta Kezza posso chiederti che hai vincito? ma non mi faccio Kezza vieni qua si ma qua ragazzi è una trappola vieni qua casola mi batti questo giro mi fa male già il braccio grazie pronti? adesso volo giù chi vince vuol dire che è il miglior streamer 12 non c'è blur qua stop grande non ha vinto nessuno perchè fa già che torni cagare perchè è il miglior streamer è il re chi è? è blur è uno streamer veramente forte ma si forse è uno che mi aveva attaccato può essere sincero ma che scena abbiamo visto? cosa hai pensato mentre lo guardavi? ho pensato che avevi gli occhi ho pensato... mi chiamavo un cazzo che vi... non per questo ma si si guardavano sembrava che lui volesse baciare si 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 toglietela grazie noi possiamo possiamo iniziare a organizzare per il talent si si allora mi servono delle informazioni ragazzi adesso sono venuti un sacco di ragazzi dalle... ma la tua casa arriva tra un... due ore ma che stai facendo? sto cercando di agganciare sto cazzo di microfono se non lo vuoi che sia in mezzo alle palle eh no perchè è in mezzo ai coglioni li mettono in un punto che non rompe cazzo qua perchè la gente come lui non mora mai stoppiamo eeeeeee eeeeeee eee 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 cazzo ma c'avete tutti le tipe che si chiamano Giada ma basta tu, frene veramente si chiama Giada il tipo di frene? non è che magari è la mia? no non è che magari stiamo insieme con la stessa tipe non ce la siamo accorti? non ce la siamo accorti magari basta scrivere puttanate ragazzi scrivetemi che cosa ne pensate del privilegio dei vitalizi